Anche domani si passerà senso unico alternato nelle fasce orarie consentite sulla statale 34 Gebbio. Transito quindi tra le 6 e le 8 e tra le 16 e 30 alle 19 e 30 per permettere ai frontaglieri di andare a lavorare e di rientrare. Intanto si continua a lavorare sui cantieri per tornare più presto alla normalità anche a Monte, a Cadessino dove oggi c'è stato anche un incidente. Il sindaco Alessio Ferrari dal primo momento è stato in prima linea per fronteggiare l'emergenza e oggi ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno lavorato senza risparmiarsi. Ai bile, ditte, colle, grassi, geologi, tecnici, anas, croce rossa, soccorritori, vigili del fuoco, forze dell'ordine e in particolare la polizia municipale di Ogebio, operai e dipendenti comunali, la prefettura con il vice prefetto Gaetano Losa e i sindaci dei comuni vicini. Nei prossimi giorni Ferrari prenderà contatti con la regione per valutare gli interventi necessari sul versante. Nel frattempo, fortunatamente, nelle altre zone del Verbano Cusiossola l'emergenza meteo è stata ormai superata.